un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter è cambiata la musica non c'è più quello della Champions League ora c'è quello dell'Europa Liga bisogna accettarlo bisogna accettarlo allora ragazzi sono usciti i sorteggi Juventus Atletico Madrid, Ciolo Simeone contro Allegri, Inter Rapid Vienna, Milan Stokassen, Lazio Siviglia, Napoli Zurigo, Roma Porto ci sta Roma Porto allora ragazzi Juve Atletico Madrid mi viene più da parlare di Juve Atletico Madrid che è quasi quasi più dell'Inter vi sono sincero ma non per qualcosa perché questa qui è veramente una bellissima partita una partita dove si scontrano due squadre toste ragazzi occhio all'Atletico Madrid non è forte come l'anno scorso però una squadra io ho notato che l'Atletico Madrid è una squadra che può trovare la giocata di Diego Costa oppure di Griezmann però per segnarla poi ragazzi devi avere due palle così ragazzi per segnare l'Atletico Madrid veramente ti devi fare così il manzo poi tutto può succedere perché questa Juve insomma con Manzunic, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e più ne mette insomma possono dire la loro in questa UEFA Champions League una Coppa che stanno inseguendo già da parecchio tempo quest'anno si sentono pronti io ho parlato con 3-4 Juventini quest'anno la vogliono a tutti i costi perché insomma sono già a parecchi anni che stanno vincendo lo Scudetto sono a parecchi anni che stanno vincendo la Coppa Italia è arrivato il momento della UEFA Champions League loro lo dicono eh non è uno sfottò quello che sto facendo ora però insomma ragazzi vincere la Champions League oltre a essere forte deve avere anche una botta di culo ragazzi quindi cari Juventini non mettete tutto nero sul bianco eh l'abbiamo già vinta no so che nessuno cioè so che è 50-50 sono 50% dei Juventini che per noi l'abbiamo già vinta l'altro 50% invece dicono calma calma tutto può succedere la UEFA Champions è una una Coppa una competizione c'è veramente pazza quindi calmatevi Inter Rapid Vienna una cosa molto importante ragazzi è una partita eh da non sottovalutare ragazzi a volte è meglio giocare con con uno squadrone che conosce e non contro queste squadrette perché queste squadre raga la con questa competizione se la giocano con il sangue agli occhi quindi caro Spalletti io non voglio vedere che vai lì e fai il turnover o ti presenti con che ne so io con la con dei giovani della primavera no no non deve succedere io voglio la squadra titolare in campo proviamo a vincere l'arrivato a sto punto anche se questa competizione è anche difficile raga vi ricordo che c'è il Chelsea vi ricordo che c'è il Napoli ci sono tante squadre forti anche in Europa League eh da non sottovalutare raga Napoli-Porto speriamo che il Roma-Porto speriamo che la Roma si riprende una Roma che non mi sta piacendo tanto come gioca anche ieri contro il Genoa però insomma possono dire anche la loro in questa partita la Lazio è andata male perché il Siviglia è anche anche il Siviglia è una squadra un po' non mi fiderei tanto eh però speriamo in bene speriamo in bene e va bene dai ci luci immobile dai per una volta farò il tifo anche per te dai contro il Siviglia e niente mister da non sottovalutare io molto probabilmente mi farò questa trasferta a Vienna ci tengo speriamo bene Juve attenzione Juve che il ciolo Simeone è un allenatore con le palle quello lì veramente sa cosa fare quindi fai attenzione caro Juve perché io so che voi la volete vincere però avete pizzicato una squadra un po' così così stiamo a vedere sarà una bellissima partita ne sono sicuro un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter forza Inter cerchiamo a vincere ragazzi go go Inter go ciao ragazzi e buona serata ciao